Inter-Milan 1-0, che bel lunedì ragazzi, che bel risveglio, che bel inizio di settimana. Ci mancava vincere un derby di campionato, soprattutto mancava Simone Inzaghi, che ieri ha vinto il suo primo derby di campionato, ma non il suo primo derby in assoluto, perché giusto 20 giorni fa ne aveva appena vinto un altro abbastanza importante anche quello e poi l'anno scorso c'era stato quello di ritorno nella semifinale di Coppa Italia. Iniziamo la settimana nella maniera migliore possibile, ricacciando il Milan a meno 5 nel vortice della lotta per la qualificazione a un posto Champions, mentre noi per il momento, anche se non ancora in via definitiva, ci stacchiamo un pochino, ci mettiamo da soli al secondo posto, all'inseguimento, se così vogliamo dire, di un Napoli che continua a vincere partite 18 su 21, un campionato clamoroso degli uomini di Spalletti che hanno il miglior attacco e la miglior difesa del campionato e che, insomma, inizio febbraio si candidano seriamente per essere i vincitori, secondo me, meritevoli di questa stagione di Serie A. Concentriamoci però sulla nostra Inter oggi e il day after di Inter-Milan 1-0 e permettetemi, ragazzi, godiamocelo, godiamocelo perché ce lo siamo meritati e abbiamo vinto giocando abbastanza bene, giocando comunque molto meglio del Milan e dominando una partita in cui, andando anche a vedere i numeri ma anche le occasioni, non c'è stata veramente storia dal primo fino al 95esimo minuto. Rispetto a tutti gli altri contenuti che avete già trovato e che troverete sui nostri canali, in questo contenuto voglio darvi qualche altro spunto aggiuntivo, qualche valutazione fattamente fredda e però, appunto, godermi insieme a tutti voi questo day after e questa grande vittoria. Quindi ben ritrovate e ben ritrovati, amici e amici, passioni e interisti, buon inizio di settimana. Se hai goduto per la vittoria del derby, devi assolutamente lasciare mi piace a questo contenuto e se non lo hai fatto iscriverti al canale. Tra l'altro ti invito ad iscriverti anche perché questa sera alle 19.30 saremo come ogni giorno live qui sui nostri canali, ma sarà una diretta speciale con alcuni ospiti, quindi ti consiglio di non perdertela e per farlo devi iscriverti al canale, così uno puoi commentarla perché altrimenti non potrai farlo e poi, appunto, ti arriva la notifica, puoi seguirla e godi in questo day after insieme a tutti noi. Allora, mi sono segnato alcune cose da dirvi, nulla di particolarmente impegnativo. Voglio partire da un dato. Sette vittorie in nove partite nel 2023 per l'Inter, che non ha vinto solo contro l'Empoli, in ciampo brutto e sicuramente da rivedere, e contro il Monza, una partita che a dieci dalla fine avevi portato sul 3-1 e che poi, con la complicità dell'arbitro Sacchi, non sei riuscito a vincere. Nel frattempo, in queste nove partite, vittoria con il Napoli, vittoria con il Milan in Supercoppa, vittoria con il Milan in campionato ieri e, se vogliamo, se vogliamo aggiungerci la decima partita, prima del Mondiale, l'ultima vittoria a Bergamo contro l'Atalanta. Diciamo che uno dei difetti dell'Inter di Inzaghi, e potremmo dire di Inzaghi in quanto allenatore, che erano le vittorie nei big match, forse pian pianino lo stiamo superando. Adesso c'è un intero girone di ritorno da affrontare, dovremo affrontare ancora le Romane, ancora l'Atalanta al ritorno, ha il Napoli al ritorno, la Juventus, però dei risultati sono già messi in serie, poi arriverà anche la Champions e la semifinale di Coppa Italia. Speriamo, perché questo era uno dei problemi dell'Inter, dovesse aver risolto, o quantomeno essersi messo nella strada giusta per risolvere anche questo problema, il mister sicuramente sarebbe una notizia molto positiva. Tra le varie cose che sono emerse nella partita di ieri, io voglio fare notare l'importanza di due giocatori, che giustamente Simone Inzaghi ha citato nel postpartita, che sono Romelu Lukaku e Marcello Brozovic. Sono due dei più pagati, Lukaku è il più pagato, Brozovic è il secondo più pagato della Rosa, insieme a Lautaro e pochi altri, che l'Inter di fatto da fine agosto per Lukaku e da metà settembre per Brozovic ha regalato ad ogni avversario, nel senso che non li ha avuti a disposizione, ha dovuto trovare sempre soluzioni alternative che, per carità, hanno anche funzionato abbastanza bene, ma che comunque non possono sopperire al 100%, all'assenza di due pilastri come Lukaku e Brozovic. Ieri sono entrati a gare in corso, Brozovic ha fatto poco, perché comunque la gara era già piuttosto indirizzata, Lukaku invece ha aiutato molto, secondo me, i suoi compagni a tenere alto il pallone, si è messo con la solita posizione spalle alla porta e al difensore avversario, ha tenuto il pallone, dal mio punto di vista ha regalato l'assist per un rigore che non hanno dato a Lautaro, per fallo su Kalulu, ha regalato l'assist al gol di Lautaro, che era in fuorigioco con una parte della fronte e metà spalla, e aveva fatto gol, che poi Massa, anche qui sull'onda lunga di Sacchi, ha deciso di annullarli, fischiando ancora prima che la palla entrasse in rete, replicando l'errore di Monza, e qui non voglio approfondire perché in parte ne abbiamo già parlato nella clip post partita e lo faremo anche nelle prossime dirette, però ci sarebbe da fare una riflessione su certe cose che stiamo vedendo a livello arbitrale nelle partite dell'Inter. Quindi Lukaku molto molto importante, lo ricordiamo sempre, ieri Dzeko secondo me non ha fatto benissimo, mentre Lautaro è stato un trascinatore assoluto, il migliore in campo senza dubbio, Correa continua ad avere problemi, quindi è fondamentale ritrovare Lukaku. Ed è molto importante ritrovare anche Brozovic, perché ieri l'Inter nella ripresa ha fatto molta fatica a gestire il pallone, il Milan si è rimesso con il suo canonico 4-2-3-1, ha alzato un pochino il pressing, e il centrocampo dell'Inter è andato in sofferenza un po' più di quanto non lo fosse nel primo tempo. Quindi l'ingresso di Brozovic è stato funzionale, perché appunto serviva ad aggiungere un giocatore che sa gestire il pallone e lo sa smistare verso i compagni, molto più di Gagliardini, che a logica a naso poteva essere il cambio difensivo, che invece è arrivato solo per i minuti di recupero. Un'altra cosa da rivedere, e questa purtroppo non è una novità per l'Inter di Inzaghi, sono gli errori frequenti che regalano ripartenze, regalano occasioni agli avversari. Anche in una partita che di fatto avevi dominato, come quella di ieri, un paio di errori di Barella di sufficienza, passaggi imprecisi o palloni persi, hanno regalato potenziali occasioni al Milan. E da un Barella che secondo me è il termometro dell'Inter, o comunque uno dei termometri dell'Inter, io certi errori non me li posso aspettare. Ieri ha fatto una partita di grande quantità, grande presenza e anche qualità, perché Barella è un giocatore di enorme qualità, e chi ancora non lo vede, in questo caso non tanto i tifosi interisti, quanto i detrattori avversari, dovrebbe mettersi degli occhiali, perché Barella è cresciuto tantissimo in termini di qualità nella giocata, ma anche nella gestione del pallone. Però purtroppo fa ancora degli errori di sufficienza. Ieri mi ricordo una palla persa davanti alla difesa, che poi ha portato ad un calcio di punizione pericoloso per il Milan. Un altro pallone regalato al Milan, che ha generato un contropiede. Un contropiede dell'Inter che stava gestendo lui, che poi ha fatto un passaggio con enorme sufficienza verso sinistra, e il compagno è stato anticipato. Sono piccole cose che poi, se non portano al gol avversario, vai a dimenticare, ma che per arrivare da 30 a 31, ecco, serve che non si facciano più. E poi il macroerrore per eccellenza è quello che ha portato a quell'azione in cui Giroud in area di rigore ha stoppato male, e a Cerbi, che secondo me è il secondo migliore in campo di ieri, ha sventato. Lì, Skriniar si trova sulla trequartia offensiva, gira un po' su se stesso, tenendo anche bene il pallone, lo perde perché poi viene triplicato, e se tu guardi l'Inter c'è Bastoni, che è un altro difensore, anche lui nella trequartia offensiva. Tutti gli attaccanti in avanti, gli esterni alti, e il Milan riparte con un 4 contro 3, al 75esimo sull'1-0 per l'Inter. Non si può, non si può concedere queste cose. Dai, va bene provare a giocare, provare a fare il 2-0 e ad attaccare, ma non puoi essere così sbilanciato. Era lo stesso errore fatto l'anno scorso, quando c'è stato il contatto Sanchez-Giroud. Lì, secondo me, è errore soprattutto di Sanchez, che non molla subito il pallone, poi forse prende anche un fallo, però anche lì, gestisci il pallone, gli esterni salgono subito, oltre la linea della palla, le due mezze ali pure, e poi c'è il buco dietro. No, questa cosa non si può fare. Comunque, ripeto, alla fine il risultato è andato bene, quindi analizziamo anche le cose che non hanno funzionato, ma rimanendo sempre soddisfatti del risultato, anche perché, piccola parentesi aperta sul Milan, Pioli ha cambiato l'impostazione, lo schema tattico, nel post partita ha rivelato quello che era il piano gara, non che fosse misterioso da intuire, visto che si è notato nel primo tempo, il piano gara del Milan era primo tempo abbondante, forse anche una parte della ripresa, stando belli coperti dietro, cercando di chiudere gli spazi all'Inter per poi provare a ripartire, e poi, immagino, negli ultimi magari 20 minuti, provare a vincerla. Secondo me, la partita del Milan di ieri è innanzitutto un cambio che alla fine è stato negativo, ovviamente, per Pioli, ed è, secondo me, la risposta a tutti coloro che dopo due o tre partite che non funzionano, anche fra noi interisti, invocano cambi di modulo, rivoluzioni, passiamo al 4-2-3-1, al 4-4-2. Ragazzi, i moduli, per quanto nel calcio di oggi sono molto fluidi, e l'Inter e Dinzaghi, con buona pace di Enrico Sacchi, lo dimostra ogni domenica, perché è un 3-5-2 molto mascherato, quello dell'Inter, gli schemi non si cambiano dalla sera alla mattina, e non si cambiano nemmeno dal lunedì alla domenica. Puoi fare delle piccole variazioni, per esempio, se Pioli avesse fatto il 4-3-3, poteva avere un suo senso, ma se tu giochi col 4-2-3-1, non puoi cambiare e passare al 3-5-2, come se fosse, come se non fosse una cosa rivoluzionaria, a livello di uomini, a livello di movimenti, a livello di automatismi, e allo stesso modo l'Inter non può pensare di fare dal 3-5-2 al 4-2-3-1, o al 4-4-2, come qualcuno ogni tanto chiede, perché poi, l'unico modo con cui puoi interpretare questo cambiamento è fare come ha fatto Pioli, tutti dietro, e poi però non crei niente, fai zero tiri in porta nel primo tempo, lasci oltre il 70% del possesso palla agli avversari e perdi il derby, solo 1-0, perché poi il tanto bistratato da Tatarussanu e un po' di imprecisione nostra e alcune scelte arbitrali ti consentono di non prenderne almeno due, però questa è la risposta e dalla squadra campione d'Italia, perché poi difficoltà finché si vuole, ma se sei campione d'Italia hai delle responsabilità, è stato un pessimo segnale, che mi auguro che oggi e anche i prossimi giorni venga fatto notare, come talvolta viene fatto notare l'errore o gli errori di Simone Inzaghi. Detto tutto questo, rammarico sicuramente per lo scudetto, perché è vero che il Napoli sta facendo un campionato mostruoso e sta strameritando di essere lì, però in effetti l'Inter ha perso dei punti nel corso della stagione che se non avesse perso ti avrebbero consentito quantomeno di avere una debole speranza e di augurarti che magari un paio di passi falsi del Napoli sommati all'eventuale scontro diretto del Girona di Ritorno potessero darti ancora la chance di rientrare. Però purtroppo è andata così, io voglio sempre anche ricordare che Simone Inzaghi allena dal 2016, quindi sono sei anni e mezzo che Inzaghi ha in mano delle prime squadre e ha allenato solo la Lazio prima dell'Inter. Gli altri allenatori, Gasperini, leggevo prima, allena dal 2003, Pioli allena dal 2003, Spalletti allena dal 95, cioè quando anche si dice Inzaghi è un perdente, Inzaghi è questo, ragazzi Inzaghi è al sesto anno di allenatore di prime squadre, le persone cambiano, maturano, possono migliorare i propri difetti, non possiamo pensare che Inzaghi dopo sei anni di allenatore sia quello, Spalletti dopo sei anni non era quello di oggi probabilmente, Pioli nemmeno, Gasperini, ma tutti, tutti migliorano, anche Sarri, cioè poi per carità a ognuno può piacere o non piacere, non è che bisogna essere per forza diciamo sostenitori o apprezzare per forza l'allenatore A piuttosto che l'allenatore B, però non facciamo sempre gli ipercritici, non andiamo a martellare eccessivamente di fronte ai risultati che magari non arrivano, si fanno notare le critiche, gli errori l'ho fatto anche io in questo contenuto nonostante la vittoria finale della partita, però ricordiamoci sempre i dati e in questi sei anni e mezzo Inzaghi è comunque un allenatore che ha vinto diversi trofei è già arrivato in testa alla classifica di quelli che hanno vinto più supercoppe italiane e ha sfiorato lo scudetto di due punti anche chi parla di perdente cavolo se perdi lo scudetto di due punti non sei un perdente dai su cioè mettiamo sempre in prospettiva le cose io dico questo poi so che ognuno si terrà la sua opinione e va bene vedremo anche a fine anno però ricordiamoci sempre di mettere in prospettiva le cose queste erano un po' le riflessioni sparse che mi ero segnato nel day after di questo derby vado a vedermi continuare la visione di tutti i contenuti dei tifosi milanisti che stanno rosicando e piangendo per questa sconfitta grazie per avermi seguito fino a qui vi ricordo ancora una volta il mi piace se state godendo per questo derby e l'iscrizione al canale il club di Passione Inter se volete elevare al quadrato il godimento all'interno di una community riservata con tutti noi di Passione Inter i nostri sostenitori vi ricordo www.passioneinter.club eccolo qui infine la diretta delle 19.30 di stasera non perdertela che è molto calda e poi se mi stai seguendo in podcast lo lascio in descrizione se mi segui su youtube qui alla mia destra trovi il commento a caldissimo mio e di Lorenzo nel derby 1 a 0